Ci vorranno alcuni giorni prima di conoscere con esattezza le cause del decesso di una bimba di sei mesi morta nella culla mentre dormiva l'altra sera a Piobbico nel Pesarese. Questa mattina all'ospedale di Urbino il medico legale Adriano Tagliabracci ha effettuato l'autopsia. I genitori della bimba, entrambi molto giovani, poco più che ventenni, sono ancora sotto shock. La mamma della piccola quando l'altra sera verso le 22 è andata a prenderla nella culla per darle la poppata si accorta subito che la bimba era fredda e non respirava più. Quindi disperata ha chiamato il 112 dei carabinieri i quali hanno subito allertato l'ambulanza che è arrivata pochi minuti dopo in questo residence alle porte di Piobbico dove la coppia abita da poche settimane. Quando il medico ha visitato la bimba non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La povera mamma non ha retto al dolore e si è sentita male. L'appartamento è stato posto sotto sequestro dai carabinieri della compagnia di Urbino ma solo perché in questi casi è la prassi che lo richiede. Per la data dei funerali invece bisognerà attendere il nulla osta della procura.